Che vuoi? Stefano De Martino ritrova il suo grande amore, ecco chi Dopo tre mesi d'assenza dall'Italia per fare l'Isola dei Famosi, Stefano De Martino è tornato a casa e i paparazzi l'hanno beccato in compagnia. La tredicesima edizione del Cancelletto Isola dei Famosi sta per concludersi, dopo tre mesi esatti diliti, polemiche e confronti accesi, lunedì 16 aprile conosceremo il nome del vincitore. Nell'attesa dell'ultima diretta di quest'anno del reality, il Cancelletto Gossip fa sapere che i naufraghi finalisti e tutto lo staff che ha vissuto in Honduras nelle ultime settimane, sono rientrati in Italia, Cancelletto Stefano De Martino, in particolare, è stato paparazzato per le vie di Milano in compagnia del suo grande amore. L'inviato del programma, non appena è atterrato, è corso dal piccolo Santiago, come dimostrano le dolci foto che in queste ore stanno facendo il giro del web, papà e figlio si sono goduti una passeggiata in città come non facevano da troppo tempo. Stefano De Martino torna dall'Hondurasia e si ricongiunge con Santiago. Esattamente tre mesi fa, a metà gennaio, Stefano De Martino partiva alla volta dell'Honduras per iniziare la sua avventura da inviato dell'Isola dei Famosi, oggi, a metà aprile, il ragazzo è finalmente rientrato in Italia ed ha potuto abbracciare tutti i suoi affetti. A confermare che tutto il gruppo di lavoro del reality ha lasciato le calde spiagge onduregne in vista della finalissima del 16 aprile, sono stati sia i video che il ballerino ha pubblicato su Instagram in questi giorni, che le foto che hanno scattato i paparazzi al 28enne e al suo grande amore. Come testimoniano le immagini che in queste ore stanno riportando tutti i siti di gossip, dunque, il napoletano non appena è tornato a Milano è andato a prendere il piccolo Santiago da scuola, gli attenti fotografi non si sono lasciati sfuggire questo dolce momento, ed hanno immortalato l'intero pomeriggio che padre e figlio hanno trascorso insieme dopo tre mesi di lontananza. Che Stefano non vedesse l'ora di riabbracciare il suo bambino, lo si era capito anche dall'atteggiamento abbastanza insofferente che aveva durante le ultime puntate dell'isola, nel corso della semifinale del programma, poi, il giovane ha trattenuto a stento le lacrime quando ha fatto gli auguri alla sua creatura, video virgola che proprio quel giorno compiva cinque anni. Sul profilo Instagram di De Martino, in questi giorni non si vede altro che dolcissimi momenti che sta finalmente condividendo con il suo mento, baci prima di andare a dormire, cartone animati visti insieme e foto di grandi sorrisi da parte di entrambi sono solo alcuni degli emozionanti contenuti che l'ex marito di Belen ha condiviso sui social da quando è tornato a casa. A proposito della Rodriguez, pare che lei e il ballerino non si siano ancora visti da quando lui è rientrato dall'Honduras, il gossip, infatti, racconta che lui è andato a prendere il bimbo a scuola e che si sia incontrato e salutato soltanto con Veronica, la mamma dell'Argentina. Isola dei famosi, chi sarà il vincitore?. Nell'attesa di organizzare una nuova festa di compleanno per il suo Santiago, video virgola Nei prossimi giorni, Stefano De Martino deve adempiere ad un altro importante impegno professionale, lunedì 16 aprile, infatti, andrà in onda in diretta su Canale 5 la finalissima dell'Isola dei famosi. Dopo più di tre mesi in cui i naufraghi hanno lottato con la fame, la fatica e le difficoltà imposte dalla convivenza forzata, finalmente sapremo chi di loro salirà sul gradino più alto del podio. I concorrenti che sono riusciti ad approdare all'ultima puntata del reality sono, Bianca Azzei, Nino Formicola, Amauriz Perez, Francesca Cipriani e Jonathan, gli ultimi due sono in nominazione solo uno di loro proseguirà il percorso fino alla vittoria. Prima di arrivare in studio e conoscere dalla viva voce di Alessia Marcuzzi il nome del triunfatore di questa edizione dell'Isola, tutti i finalisti parteciperanno a dei giochi che proprio De Martino condurrà da un posto molto particolare di Milano.